Abbiamo ottenuto comunque un buon punto a Livorno, un campo molto difficile contro una squadra forte, una squadra che sicuramente non ha ottenuto ciò per cui è stata costruita, ma il campionato di A2 è un campionato lungo e difficile. Noi siamo stati più bravi di loro durante la regular season, per cui abbiamo fatto un punto, sappiamo che affrontavamo una squadra ben organizzata, di alta qualità. Abbiamo ottenuto un punto, chiaro è rammarico perché è 2-0 avanti noi, però dobbiamo dare merito alla squadra di Livorno che nonostante sotto 2-0 ha fatto una gran partita, soprattutto nei fondamentali battuta, muro di difesa, sono stati molto bravi. Merito a loro, non c'è problema, noi adesso cerchiamo di ottenere questo, siamo sempre secondi comunque, per maggiori numeri di vittorie, prepariamoci al meglio per affrontare Mondovì, per cercare di ottenere il secondo posto che ci darebbe la possibilità di giocare la gara d'andata e eventuale spareggio in casa. Comunque onore ai nostri ragazzi che stanno facendo una stagione strepitosa.